E' D'Ale Rosa, sindaco del cambiamento! Auguri! Questa è un'azienda seria. Noi non costruiamo mica delle cappannine di fango in Africa, dietro il personale. Chi se ne frega? Io sono Vissaron. Che cos'è questa pubblicazione? E' questa sua figlia che si sposa. Tuo figlio si sposa. E chi è lei? E' un influencer. Ah, è un medico. Pensi come piccolo è il mondo. Cioè, per me, per lei e la sua taglia, no? Scommetto che lei sceglie la destra, vero? Io seguo il Nord. Sei del Nord e pure ricco! Io mi trovo un sistema per... Per far saltare direttamente il matrimonio. Magari. Madonna, mi piacciono le donne come lei. Beh, le profiterò. Dolci, ma con le palle. Punto primo, albero genealogico. Punto secondo, esame del DNA. Punto terzo, la finina penale. Si ricorda? Lavorare meno, lavorare tutti. Ma chi l'ha detta sta stronzata? Oh, sindaco. Quello di prima. Ma sei dai fin di Totò che non c'è più la media mila. Quando voi avete surriscandato il pianeta col vostro ragù. Gli uomini veri sono quelli che ammettono di aver sbagliato. Cicerone. No, questo è il gatto. E tutto.